Buongiorno ragazzi, questa è la lezione dell'ultima settimana di maggio, costituita dalla prima parte del capitolo 14. Siccome l'argomento è piuttosto intenso, penso di fermarmi su questo, potrei verso metà settimana, penso verso metà settimana, darvi magari già all'inizio della prossima, o fine, scusate, inizio settimana questo, fine settimana magari la seconda parte del capitolo e le ultime due o tre nella ultima settimana, per cui rimarranno indietro i capitoli 15 e 16. D'altra parte sarebbe troppo effettivamente fare anche questi due capitoli che normalmente, come già vi ho detto, più volte si svolgono verso l'autunno molto inoltrato. Vediamo che partiamo parlando di risorgimento, intanto va detto che riprendiamo velocemente alcuni concetti per cui stiamo affrontando da più tempo. Per capire come mai oggi parleremo in modo particolare di alcuni progetti politici che riguardano l'Italia, per poi affrontare la seconda parte, che cercherò di darvi questa settimana, il 48. Poi la prossima settimana probabilmente il 3, 4, il 5, insomma, o in queste due settimane faremo tutto questo capitolo. Allora, si programma l'Italia futura, non c'è miglior titolo per capire questo inizio di argomento, in quanto noi finora abbiamo visto soprattutto la rivoluzione francese, il Napoleone, la fine di Napoleone, il congresso di Vienna, la restaurazione, che è il periodo in cui i sovrani legittimi tornano al potere e restaurano l'ancien regime, cioè il loro potere prevalentemente assoluto. Ci sono stati che riescono a ottenere l'indipendenza in seguito a moti, movimenti, soprattutto in Europa, solo la Grecia e sono soprattutto quelli dell'America Latina che ottengono l'indipendenza. Abbiamo visto anche le idee politiche dell'America, del Presidente Monroe che dice America agli americani, quindi la potenza americana che emerge e si stacca dal controllo da parte dell'Europa. Emergono sempre di più gli Stati Uniti invece, che controllano anche il Sud America che si è reso indipendente dall'Europa e abbiamo anche visto che c'è una guerra civile in America e come si struttura pian pianino l'America, quali sono i valori su cui si fonda questo Stato che è una confederazione in teoria antischiavista alla fine della guerra civile, poi però in realtà abbiamo detto anche piuttosto razzista. Ritorniamo quindi all'Europa ma addirittura meglio all'Italia. Abbiamo visto che il periodo della restaurazione è caratterizzato soprattutto da rivolte organizzate da società segrete e abbiamo individuato due periodi in cui si svolgono il 1820-21 e il 1830-31. Quasi tutte, abbiamo già detto, non sto a ripetere, tra nella Grecia e parte la Francia, finiscono la Francia nel 30-31, la Grecia nel 29 riescono a ottenere un bel niente, cioè praticamente sono rivolte che vengono soffocate anche perché in Europa esiste un'alleanza detta Santa, la Santa Alleanza tra prima solo la Russia, l'Austria e la Prussia a cui si avvicina anche poi la stessa Francia che ormai ha digerito, superato Napoleone. Non tutti però l'abbiamo superato, infatti con i morti del 30-31 viene messo al potere un re Filippo d'Orléans che sembra molto vicino ed è, almeno nella prima parte, molto vicino al popolo inteso come borghesia però. Concede un re costituzionale molto, piuttosto moderato, borghese, lo chiamavano questo. L'Italia è ancora assolutamente divisa. Abbiamo lasciato come ultimo ricordo dell'Italia, dei moti rivoluzionari in Italia, l'uccisione di Ciro Menotti a Modena, per farvi capire il dramma che viveva l'Italia, il soffocamento di tutte le rivolte. Qualcosa però si muoveva, chi si muoveva? Gli intellettuali, i patriotti intellettuali, i politici come per esempio Mazzini che vedete in questo rituato, ma non solo lui, analizzeremo una serie di posizioni politiche diverse. Cominciamo con Mazzini e la parola risorgimento. Allora non tutti concordano sulla data di inizio del risorgimento. Normalmente lo si fa partire dal 48, 1848. In effetti il nome viene da una rivista, Il Risorgimento, che ha la sua prima data di pubblicazione nel 1847. È un giornale di un personaggio che sentirei pubblicato da Cavour, cioè scritto, il direttore era Cavour, non solo lui, ci lavorava anche Balbo per esempio, personaggi di cui sentiremo molto parlare. Cavour poi in particolare, ma a breve anche di Cesare Balbo. Per cui la parola risorgimento molti preferiscono introdurla a partire dal 48, qualcuno anche prima, cioè prende la perioda, chiama risorgimento il periodo che va dagli anni venti, insomma, dopo il congresso diviene dai primi moti. Tradizionalmente però si parte dal 48, quindi adesso noi vediamo Mazzini che è a cavallo, fonda la giovane Italia nel 31 e poi la giovane Europa nel 33. Non è neanche citata la giovane Europa, il suo pensiero politico è molto complesso, lo semplifichiamo molto. In ogni caso chi era Mazzini? Era appunto un patriota, un politico che aspirava di Genova a creare l'unità della nazione italiana. Si era dato questo scopo, aveva osservato che erano falliti i moti, come tutti avevano osservato che erano falliti i moti liberali del 20-21 del 30-31 e aveva anche individuato le cause. Quali erano secondo lui le cause? La causa principale secondo Mazzini era l'incapacità che avevano avuto i moderati, lui era un democratico, i moderati liberali che erano più monarchico-costituzionali, di coinvolgere il popolo. Cosa intendeva per popolo? Per popolo intendeva proprio tutti, era favorevole alla democrazia a suffraggio universale. Fece anche molta propaganda che non raggiunse però tutti, ma attenzione, prima preferirei, potrei dirvi tante cose tutte insieme, ma per non farvi confusione seguirei il vostro libro. Allora, come dicevo, popolo intendeva tutti, anche le masse popolari che secondo lui dovevano essere il vero motore delle rivoluzioni. Addirittura continuiamo col suo pensiero, poi muoveremo delle critiche che non sono critiche mie o degli storiali, ma della storia stessa che spiegano perché le sue idee non ebbero successo a queste posizioni. Però per lui il popolo è tutti, proprio la gente, dal contadino al borghese, ma anche il contadino, l'operaio, ormai c'erano le manifatture e anche alcune industrie, ormai l'Italia è un po' a ritardo, non c'è ancora una vera e propria rivoluzione industriale meccanizzata, però le manifatture ci sono. Quindi gli operai delle città, gli artigiani delle città e i contadini, fino ai salariati, sono il popolo. Tenete presente che l'Italia è soprattutto abitata da contadini, quindi i contadini sono fondamentali. E vediamo che Mazzini, forse lo anticipo, sfugge un po' questo particolare, che la massa dei contadini è analfabeta, non riesce a informarsi, non è raggiungibile con la propaganda scritta, non è raggiungibile, non c'erano i mezzi di comunicazione di massa e quindi può un po' sfuggire a questa idea di popolo. È molto tradizionalista e conservatrice, appoggia sicuramente molto di più, posizioni conservatrici, quindi più vicine all'idea di re, all'idea di papa, vicini alla chiesa cattolica. I contadini sono questi. Già vi muovo una prima osservazione, però lui aveva questa idea, dice che i morti del 20-21, del 30-31 falliscono perché non coinvolgono le masse popolari, che sono tutti, dai contadini agli operai delle città, i salariati e i braccianti agli artigiani. Però ha anche un'altra convinzione, ha proprio una convinzione quasi religiosa, pur non essendo un religioso, che ogni nazione ha, perché siamo nel romanticismo, cioè lui sente fortemente l'influsso delle idee romantiche, non fate confusione tra romanticismo, che è una corrente culturale e il risorgimento che è invece un periodo storico. Il romanticismo è diffuso, vi ricordate al centro c'è l'idea di nazione e secondo Malzini, da buon uomo dell'Ottocento, romantico anche lui ha un'idea che ogni nazione ha una missione da compiere. Qual è la missione che deve compiere l'Italia nell'Ottocento? Liberarsi dall'Austria, rendersi indipendente e essere modello per tutti gli altri stati oppressi d'Europa. A tale scopo, secondo lui, la prima critica che fa è appunto, finora non abbiamo coinvolto il popolo. La seconda critica che fa è alla carboneria, lui era iscritto alla carboneria, ma si era molto allontanato perché aveva osservato che era troppo segreta, addirittura non aveva un progetto unitario, unico scusate, unitario, non condividevano tutti un obiettivo comune e c'era troppa segretezza. Spesso chi si muoveva a compiere degli atti di sabotaggio o discuteva, lottava, non sapeva bene per che cosa. Nella carboneria la segretezza dovuta a controllo poliziesco dell'Austria soprattutto, nel reno Lombardo-Veneto, ma anche nel reno di Sardegna, non riusciva, soprattutto nel Lombardo-Veneto, nei Ducati controllati dai parenti degli Asburgo, non riusciva assolutamente a essere più chiara, doveva stare troppo segreta. Mazzini allora se ne andò dall'Italia, la storia è molto complessa ma non ve la sto a spiegare, venne anche esiliato, fondò a Marsiglia una sua associazione, la Giovani Italia, che doveva avere questo compito, un compito chiaro, quello di far nascere la nazione italiana e essere d'esempio tutte le altre nazioni. Fonda poi nel 1933 in Svizzera, perché si racconta in Svizzera, la giovane Europa, cioè fu un uomo con vedute di ampio respiro che riguardavano l'intera Europa, anticipando l'Unione Europea. Diciamo che l'idea di Unione Europea nasce proprio in Italia, noi siamo i padri fondatori, ma lo siamo anche perché i nostri pensatori sono stati i primi già nel risorgimento, quando ancora non esisteva la nazione italiana e non esisteva nemmeno la Germania, a pensare a un'unità dell'Europa, magari fatta di tanti stati, ognuno con la sua indipendenza, ma almeno confederati. A parte questo, che vi allarga un po' le idee, vi fa capire che la storia poi ha preso un'altra piega a causa dei fascismi, del nazismo, ma poteva invece essere, diciamo che il Novecento viene definito il secolo breve, perché a causa delle guerre che hanno accorciato quel processo che si era avviato già nell'Ottocento, hanno accorciato, si è dovuto ridurre tutto a dopo la metà del secolo. Il primo secolo è andato in due guerre e nelle dittature, insomma se ci riflettete non è una cosa da poco, si sono persi 50 anni e ci portiamo dietro ancora tanto, ma il risorgimento viene spesso richiamato anche oggi e la nascita proprio per richiamarsi ai valori più sani che erano diffusi in Italia e già nell'Ottocento, ma smantellati da un periodo che invase non solo l'Italia ma tutta l'Europa, quello dei totalitarismi, di cui vedremo le degenerazioni e i mali fatti nell'anno prossimo. Allora la parola risorgimento già vi ho spiegato da dove viene, il libro poi vi spiega cosa vuol dire, ma non è che ci interessa più di tanto, soprattutto è il periodo storico. Che programma aveva precisamente allora Mazzini? Il suo programma era quello, un programma politico che portava avanti la giovane Italia e lo rese pubblico con giornali e volantini. Che programma è quindi non segreto? Naturalmente lo perseguitarono, non lo mandarono in esilio e via dicendo. Doveva essere una repubblica, doveva rendersi indipendente e unita, era una, di solito si usa questa forma, una indipendente e repubblicana, per cui vuol dire che non ci doveva essere più re, c'erano cittadini tutti uguali, il suffragio doveva essere maschile ovviamente, perché le donne non si pensava potessero votare, allora universale, indipendente da ogni dominio straniero, quindi via l'Austria, e una sola, cioè un unico Stato con un unico territorio, un unico popolo. Che compito aveva la giovane Italia? Quello di istruire i cittadini e educarli a questa idea, come con la propaganda, molto difficile naturalmente data il periodo storico di controllo della Polizia e della Santa Alleanza, molti furono arrestati in difficoltà e poi, come vi dicevo, difficile per questo, ma anche perché era difficilissimo raggiungere proprio quel popolo di contadini e braccianti e anche in parte operai, dei analfabeti che non furono mai raggiunti dal messaggio mazziniano o gli arrivò, come dice qui, deformato, scorretto, tant'è che i primi moti che fecero i mazziniani, a volte anche stesso all'insaputa di Mazzini, che non riteneva ancora pronto il popolo alla rivolta, fallirono. Tra questi ricordiamo i moti di Mazziniani del 1833 e del 1834, ce ne sono tanti che non vengono elencati, ma meglio così, vi studierete meglio le superiori, vennero scoperti addirittura prima di iniziare. Poi ce ne fu uno che fu mosso da due fratelli, fratelli Attilio e Emilio Bandiera, che è 10 anni dopo, siamo già nel 44, questi subito dopo i moti del 30 e 31, ma non li collochiamo insieme a loro, sono separati perché sono moti mazziniani, quindi moti rivolte fatte secondo le idee di Mazzini, quindi puntavano a coinvolgere il popolo intero e lottavano per l'Italia una, indipendente ed unita, ma furono repressi rapidamente. Quest'altro moto fu promosso da due ufficiali, addirittura erano dentro la Marina Austriaca, ma erano iscritti alla giovane Italia. I fratelli Bandiera sbarcarono in Calabria, ma all'insaputa di Mazzini, non li aveva approvato questo movimento, ma erano convintissimi di riuscire a sollevare il popolo calabrese, che invece al contrario li scambiò per briganti, li assalì e addirittura li fuciliarono. Ecco per cui potete immaginare la situazione, proprio fallimento totale dell'idea di Mazzini, che si trova un popolo che non ha ancora capito niente, non ha ancora ricevuto bene, non ha ancora assorbito le idee della giovane Italia di Mazzini, quindi che rimangono molto teoriche e ancora un po' troppo diffuse solo tra gli intellettuali, ma gli intellettuali italiani, non solo Mazzini, avevano anche altre idee. Dopo il fallimento dei moti mazziniani che erano di stampo repubblicano, quindi volevano comunque instaurare in Italia una repubblica, cancellare la presenza dei re completamente, del papa, insomma di tutto, inizia o comunque non stiamo ad approfondire la figura del papa, però vedevano nel papato sicuramente un ostacolo iniziano i mazziniani perché si frapponeva il potere papale, aveva uno stato all'unità dell'Italia. Ecco, era uno stato in mezzo, in mezzo che non mi permetteva, divideva metà l'Italia. Le corone, le teste coronate del nord, quindi i disvevi e i borboni al sud, erano attaccati al loro trono e ostacolavano il progetto repubblicano di Mazzini. L'Austria ovviamente era uno stato straniero da cui liberarsi, l'abbiamo detto prima, abbiamo detto qui, che bisognava cacciare gli stranieri, diventare indipendenti. Quindi il progetto di Mazzini era troppo avanti, però ci furono dei moderati liberali che pensarono che attraverso graduali riforme si potesse arrivare a una unità della società italiana in forme più graduali, soprattutto pensavano a una forma non di unità, ma di federalismo, cioè l'Italia doveva diventare una confederazione di stati con delle differenze. Il primo che analizziamo è Vincenzo Gioberti. Gioberti è l'autore del primato morale civile degli italiani, un'opera da ricordare, in cui espose le sue idee. Era un abate, ma di idee liberali e tentò di conciliare le idee liberali con la religione cattolica. Quindi per lui l'idea era che nascesse in Europa, in Italia una confederazione, non un unico Stato, ma una confederazione di stati italiani, dato che era tutta suddivisa, con a capo il Papa, ma militarmente protetta dal Regno di Sardegna, quindi un connubio tra Papa e Regno di Sardegna. Va voi si può sembrare una cosa strana, ma allora era molto diffusa, ebbe molto successo fra i cattolici e si creò addirittura una corrente cattolico-liberale detta Neoguelfa. A questa idea possiamo opporre l'idea di Cesare Balbo, che invece pensava sempre alla costituzione di un Stato unitario, scusate di una confederazione di stati, ma con a capo non il Papa, perché era un laico, Cesare Balbo, fondatore anche lui con Cavour, vedremo, del giornale Il Risorgimento, vedeva bene come capo di questa confederazione, quindi monarchica, come Gioberti, vedeva il re del Piemonte, quindi le differenze sono Gioberti, una confederazione di stampo monarchico, liberale, quindi con delle libertà aggiuntive, magari da scrivere anche in una costituzione o da concedere da parte del sovrano, con a capo il Papa. Il Balbo con a capo il re del Piemonte, che nel frattempo era diventato finalmente davvero Carlo Alberto per successione. Da costoro si distingueva Carlo Cattaneo, uno scrittore milanese molto bravo, un grande scrittore, anche un politico, che assieme ad anche un altro uomo Ferrari, sempre milanese, pensò anche lui a far nascere in Italia una confederazione di stati, ma che doveva essere inserita in una confederazione più ampia, appunto quella degli Stati Uniti d'Europa, diciamo che più mazziniano, un po' più mazziniano, ma con delle differenze, Mazzini voleva la Repubblica unita, lui vuole invece una confederazione di stati in Italia, perché l'Italia non era unita secondo tutti questi che abbiamo appena analizzato, la realtà era che l'Italia era da secoli divisa, fin dall'età dei Longobardi si faceva risalire a quell'epoca, divisa in tanti stati indipendenti, difficile unirla in un unico Stato repubblicano, meglio fare una confederazione, meglio ancora inserire questa confederazione, come può essere la Svizzera per farvi capire, all'interno di una confederazione europea. A questa confederazione da chi doveva essere guidata secondo Cattaneo? Da un re? No, doveva essere repubblicana, quindi prendeva da Mazzini l'idea di repubblica, l'Italia non una, ma confederale, però repubblicana, per cui vedete quello che c'è tra parentesi è molto importante, doveva essere una confederazione di repubbliche, ognuna con le sue autonomie e anche democratica, perché? Perché come diceva lo stesso Mazzini, bisognava votare a soffraggio universale, per cui attenzione di studiare bene le differenze. Arriviamo a dei fatti ora, ora che abbiamo visto il pensiero, vediamo all'anno cruciale, il 46-47, siamo lì, a ridosso del 48. Succede questo, che viene eletto, scelto, eletto dal conclave al soglio pontificio Pio IX, questo Papa che era un Papa definito almeno inizialmente liberale, cioè una volta salito al soglio pontificio cominciò a concedere delle libertà, soprattutto tolse la censura sulla stampa, istituì addirittura un Parlamento laico nello Stato della Chiesa, che viene chiamata la consulta, una guardia civica formata da volontari e addirittura una lega doganale con il Piemonte e la Toscana. Cosa significa lega doganale? Praticamente il Piemonte, la Toscana e lo Stato della Chiesa si accordarono per cancellare le tasse sulle merci che si scambiavano fra loro, quindi vedete che c'è un accenno di unità pur nella differenza e nell'autonomia di questi Stati, almeno a livello economico, venne visto da tutti come il Papa riformatore, come proprio quello che desiderava Gioberti, il famoso teorizzatore teorizzatore della idea neo-guelfe. Di fronte a questa liberalità dimostrata dal Papa addirittura, altri Stati seguirono le sue idee. Ferdinando II, che non volle farlo, dovette subire già nel gennaio del 48 una rivolta a Palermo, che non aveva mai accettato di essere stato unito al regno di Napoli, dopo il congresso di Vienna, una rivolta separatista. I siciliani volevano rendersi indipendenti e quindi alla fine, per tenere unito il suo regno, Ferdinando II concesse la Costituzione nel 48. Lo stesso avvenne, una volta concessa la Costituzione, Toscana, Piemonte, Stato della Chiesa, che erano già uniti tra loro da un patto commerciale, la Lega Doganale, anche loro si decisero a promulgare quelli che chiamiamo Costituzioni, ma anche si possono chiamare Statuti, il più importante dei quali è quello emanato da Carlo Alberto, re di Piemonte, era un Savoia, si chiamava Regno di Sardegna, noi diciamo Piemonte per capirci, perché la sede del re è a Torino, ma il Regno di Sardegna comprende Piemonte, la Liguria, la Savoia e il Regno di Sardegna, questo Statuto Albertino viene concesso da Carlo Alberto e resterà, è il più importante di tutti perché guardate che resterà in piedi dal 4 marzo del 48 fino al 1 gennaio del 1848 al 1948, cioè per 100 anni sostituito dalla nostra Costituzione, che è quella che abbiamo ancora oggi, per cui l'Italia ha avuto una Costituzione concessa che è uno statuto monarchico con un Parlamento già dal 1848, grazie a Carlo Alberto, in Piemonte che poi vedremo verrà applicato quando si creerà l'Italia Unita a tutti gli altri stati, sarà smantellato lo statuto quando dopo la seconda guerra mondiale, quando cacciaranno i Savoia, nascerà la Repubblica, bisogna darsi una Costituzione diversa, non c'è più la monarchia e quindi c'è bisogno di una nuova Costituzione che è quella che abbiamo oggi. Ecco con questo concludo e passeremo a parlare delle rivolte del 48 in un prossimo video, in una prossima video lezione che vi potrò dare verso fine settimana. Per il momento studiate questa prima parte. Grazie a tutti per l'attenzione.